Buongiorno da BTV News. Oggi 29 settembre è Santissimi Michele, Gabriele e Raffaele. Il 29 settembre inoltre si celebra la Giornata Mondiale del Cuore con l'obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. La storica campagna di sensibilizzazione è rivolta all'opinione pubblica, alla comunità medico-scientifica e ai rappresentanti delle istituzioni per ribadire l'importanza della prevenzione delle malattie cardiocerebrovascolari che ancora oggi sono la prima causa di ospedalizzazione e di morte. Le malattie cardiocerebrovascolari rappresentano il 34,8% di tutti i decessi, colpiscono più dei tumori e purtroppo il numero di persone che ogni anno si ammalano di queste patologie è in costante aumento. Grazie. Grazie. Grazie.